Ciao, sono appena finite le sfilate, questo è un canale che parla anche di moda, oggi vediamo i colori che vanno di moda per la prossima estate. Libera la tua creatività, impara con me il fashion design e il tuo sogno prende vita. Ciao, sono Patrizia, questo è il mio canale Patò 74. In questo canale ti insegno a disegnare la moda ed è un canale dedicato a tutte le fashion designer o a coloro che disegnano la moda per passione. Su questo canale ti insegno sia a disegnare ma faccio anche dei contenuti che parlano di moda. Se sei appassionata sai che sono appena finite le sfilate, vediamo che cosa hanno proposto tutti i vari brand per la prossima estate PE 2023. In particolar modo voglio parlare dei colori. Allora, avendo già visto praticamente quasi tutte le sfilate e spero che anche tu lo stia facendo, sia guardarle con i video che ci sono su YouTube, sia proprio guardarle sui siti dedicati, vedere proprio le foto. Detto questo, entriamo nel merito dell'argomento sui colori. Perché? Perché come ti dico anche, come ti ho detto anche in altri video, la moda è ciclica, quindi ci sono delle tendenze che si ripropongono dopo anni. E comunque quando va di moda qualcosa non è di una stagione sola, ma è come avesse una scia, nel senso che parte la tendenza, poi ha un picco e poi quando è stata esaurita questa tendenza tende a scendere e si crea un'altra tendenza. Quindi si parla di questo movimento ondulatorio che serve proprio per definire queste tendenze, diciamo. Quindi le tendenze che sono all'inizio, le tendenze che sono già in alto e quindi stanno già finendo e le tendenze che sono in fase di discesa che sono praticamente quasi finite. Quando ho guardato le sfilate, come tutti, guardi tante sfilate e ti rimangono impressi dei particolari o ti rimangono impresse delle cose perché fai un po' un'analisi della collezione che viene presentata in quella sfilata. Quindi le sfilate vanno guardate anche per cercare di capire, facendo una somma di tutte le sfilate, qual è stato l'elemento più ricorrente. Perché? Perché vuol dire che più stilisti credono in quel tipo di colore, in quel tipo di tessuto, in quel tipo di capo. Cioè ritengono che quel capo lì o quel colore funzioni bene e quindi lo propongono. Poi ci sono gli stilisti un po' più visionari che aggiungono delle cose che non sono ancora completamente già presenti in altre sfilate. Quindi quello che ho cercato io è stato cercare di guardare le sfilate per capire quali sono quegli elementi che diventeranno, che hanno probabilità di diventare una tendenza e che possono funzionare bene. Questo non è tirando i dadi che si fanno queste cose, ma bisogna studiare la storia del costume e quindi anche arrivare fino agli anni 80 e 90 è già buono. E capire come hanno funzionato certi capi e certi colori in quel periodo ti può aiutare a capire quale può essere qualcosa che può funzionare di nuovo. Con, diciamo, riadattato ai nostri tempi ovviamente. Per cui ragionando in questo modo, quando si parla per esempio di colori, adesso se vogliamo parlare, io qua mi sono preparata, ho il computer almeno così, riesco a capire meglio con te. Ok, allora, i colori su cui non ci stiamo neanche a discutere, nel senso che lo sanno anche le pietre, che il beige è una tendenza. Ma ragazzi, il beige sta finendo, nel senso che c'è già da un bel po', l'abbiamo visto in tutte le salse. Per cui dire che il rosa è una tendenza, il verde, l'arancio, poi il beige, ragazzi, per l'estivo, ormai non sono novità questi colori. Quindi continuano ad esistere, ok, però non sono una novità. Quindi se tu vuoi fare la silista devi cercare le cose che sono nuove e che potrebbero funzionare. Perché non è che delle cose nuove funziona tutto. Cosa vuol dire quando qualcosa funziona? Significa che entra nel mercato. Quindi, io sfaterei questo mito del beige, 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 cioè ragazzi, basta. Ormai le aziende che sono più avanti con la tendenza hanno già cominciato a dare un colore che sostituisca il beige. E se vai a studiare la storia del costume degli anni 80 e 90, troverai quel colore prima del beige. Quindi in un certo senso c'è una ripetizione delle tendenze nell'arco proprio di tanti anni. Quindi il beige, chi vuole continuare a portarlo benvenga, viene considerato il neutro, però sta già finendo ragazzi. Quindi quando ti parlo di arancio, verde, beige, cioè ormai lo sanno anche le pietre. Quindi non è una novità, ha il colore di tendenza, non è una novità, lo sanno tutti. Poi quando si parla di bianco per l'estivo, idem, perché il bianco c'è sempre nell'estivo, cioè non è un colore moda, wow che novità. Cioè quindi comunque quando guardi le sfilate e quando cerchi anche informazione su cose di tendenza, cerca anche di fare un confronto e cercare di capire se quello che ti sta dicendo questa persona che è una novità non l'hai già visto gli anni precedenti. Quindi il beige non è una novità, il beige non è una tendenza. Ormai il beige sta finendo, è nella parte di discesa della tendenza e infatti le aziende che sono più avanti hanno già cominciato a presentare un colore che andrà a sostituire il beige. Ora c'è una differenza, perché qui vedo un po' di confusione, tra i colori neutri e l'outfit monocolore. Allora, se tu ti vesti tutta di giallo, quindi la maglia gialla, i pantaloni gialli, le scarpe gialle, il berretto giallo, la borsa gialla, tu sei vestita monocolore, ma non è un colore neutro. Se ti vesti di beige, un beige chiarissimo, quello è un colore neutro, quindi la differenza c'è tra un outfit, cioè un look di un unico colore, quindi monocolore, e un colore neutro. Normalmente i colori neutri si possono abbinare un po' a tutto, quindi il bello del colore neutro è che si può abbinare a tutto. Quindi andiamo oltre a dire che il rosa è una tendenza, anche il rosa, il rosa, siamo partiti dal rosa cipria. Non so se ti ricordi tutte queste serie di colori che vengono dal make up, quindi questi colori cipriati, questi colori rosati, quindi c'era già il rosa. Poi è diventato un rosa Barbie, adesso è diventato un rosa, un pink digitale, perché ragazzi adesso ci sono i colori digitali, cioè quelli che rendono bene in internet diventano addirittura colori che vengono messi nell'abbigliamento, però quel pink lì, quel pink digitale lì è molto difficile da portare, quindi le aziende ti parlano di questo rosa di tendenza, ma fanno una tonalità più portabile, se ti fanno il rosa te lo fanno portabile. Quindi il rosa non è una novità, è una novità nel tipo di tonalità che è stata presentata con un'ottima azione di marketing, di pubblicità che ha fatto questo brand, però non è un colore nuovo, nel senso che è nuova la tonalità. Il verde continua ad esserci, il verde è un colore difficile che però quando entra nel mercato rimane, e quindi c'è ancora la coda, la coda lunga della tendenza del colore verde. Quindi ribadisco, e c'è anche l'arancio, perché l'arancio quello lì c'è già da diverse stagioni, solo che fa meno, se ne parla meno dell'arancio. Quindi abbiamo l'arancio, il rosa, il beige, il verde e il blu, non male, il blu sta entrando nel mercato in punta di piedi. Il bianco, io lo do per scontato, perché in tutte le estati, se non ti metti il bianco d'estate, è quando te lo metti, quindi il bianco c'è sempre. Partendo dal presupposto che questi sono colori che per me non sono una novità, sono scontati, perché li hai già visti in tutte le salse, in tutti i modi, già da diverse stagioni, quello che mi ha colpito guardando le sfilate sono altri colori. Quindi ho voluto cercare qualcosa che fosse diverso dai colori che, di tendenza, di tendenza, di tendenza, ok, va bene, però cosa c'è di nuovo? Quindi guardi le sfilate e cerchi le cose nuove. E nelle cose che sono nuove, ho cercato di trovare quei colori che possono diventare una tendenza e che comunque possono entrare nel mercato. Poi, possono piacere come non piacere, ma questo è un gusto molto personale, quello di cui si sta parlando e le cose che possono funzionare bene e vendere tanto. Quindi lì quello vado a cercare, non il discorso della tendenza a fine a se stessa. Quando guardo le sfilate vado a cercare le cose che funzionano e che quindi possono dare la possibilità di vendere, vendere bene. E lo vediamo in questo video. Io, tra l'altro, ho fatto una classifica di ben sei colori. Quindi, come tutte le classifiche, parto dall'ultimo posto. E te ne parlo la prossima settimana. È stato bello? Chiudo il computer. No? Lo vuoi sapere in questo video? Va bene, dai. Te ne parlo in questo video. Vediamo i sei colori che mi hanno tirato la mia attenzione e che potrebbero essere i nuovi colori di tendenza, di cui ancora non si fa molta parola, però sì, per la prossima estate, secondo me, sono dei colori che possono funzionare bene. E non tutti l'hanno messo. Ci sono dei colori che hanno messo tutti. E ci sono dei colori che le aziende non hanno ancora o hanno paura a metterli, perché hanno paura che non vendano, oppure non hanno ancora capito che sono dei colori che possono funzionare. Quindi nella moda è anche molto importante quello che si definisce timing, cioè il tempismo. E quindi adesso in questa parte del video ti parlo della classifica di sei colori che secondo me vanno tenuti d'occhio, perché potrebbero funzionare anche molto molto bene per la prossima estate. Ok, al sesto posto, in classifica al sesto posto, vediamo il colore rullo di tamburi all'ultimo posto della classifica. Che colore ci sarà? È un colore che secondo me può sostituire il verde. Ecco, il motivo per cui l'ho messo in questa classifica è perché è un colore che può essere utilizzato proprio al posto del verde. Ed utile proprio come il verde, può essere la continuazione di questo mondo, di un colore saturo come quello del verde, o anche in gradazione più soft. Quindi secondo me questo tipo di colore, che si è già visto anche anni passati, è un tipo di colore che può prendere il posto del verde. Questo è il motivo per cui l'ho messo in classifica. Il colore al sesto posto è rullo di tamburi, l'azzurro. Allora, l'azzurro è un colore che è stato presentato in alcune sfilate, quindi non tutti i brand lo hanno presentato. Adesso mi apro la foto insieme a te, così la guardiamo insieme. è un colore che non tutte le aziende hanno presentato, perché non tutti sanno se funzionerà oppure no. Quindi lo vediamo in questa diapositiva, lo vediamo sia nei colori saturi, nei toni saturi, che nei toni più polverosi, o che nei toni anche, nei toni un po' più soft. Alcuni brand hanno capito la potenzialità di questo colore, e hanno cominciato a presentarlo. Quindi l'azzurro sicuramente può essere un colore che secondo me può prendere il posto del verde. Sì, devo dire che è un bel colore, però è un colore che non hanno notato tutti. Quindi non tutti l'hanno messo nelle sfilate. C'è chi l'ha messo all'ultimo con un capo molto semplice, perché durante le sfilate, all'ultimo momento, si fanno cucire dei capi, ragazzi. Quindi può capitare che si aggiunga un capo e si faccia cucire la notte prima della sfilata. E secondo me questo è il caso di alcuni capi azzurri, che sono stati aggiunti velocemente nelle sfilate. Mentre invece ci sono stati altri brand che hanno già puntato su questo colore, e hanno fatto proprio un tema dedicato anche alla presenza di questo colore. Quindi secondo me l'azzurro è il sesto posto perché è un colore che può prendere il posto del verde. Sì. E si presta bene a diversi tipi di capi. Quindi adesso vediamo un altro colore che io ho messo al quinto posto. Allora, qui entriamo nel mondo di colori. Questo è un tipo di colore che o ti piace o non ti piace. Spesso e volentieri ci sono dei tipi di colori che possono essere, diciamo, di tendenza in più tonalità. Quindi chiaro, scuro, saturo, eccetera, eccetera. Questo qui, però, ci sono anche colori che non li puoi declinare in altre tonalità. Cioè il range che hai è molto stretto perché quando vai a fare troppe gradazioni di quel colore lì si perde la tendenza. Quindi questo è un tipo di colore che a differenza dell'azzurro o, ad esempio, del verde non si possono fare tante gradazioni. Quindi bisogna stare in colori molto saturi. E infatti le aziende, i brand che lo hanno presentato hanno più o meno mantenuto un colore molto saturo e l'hanno presentato comunque in tonalità molto simili. Quindi non è una gamma incredibile. Mentre ci sono colori che vanno a spaziare in tutte le gamme questo è un tipo di colore che ha poco range. Cioè o ci metti quel tono lì o un tono simile ma non hai tanto gioco, tanto spazio per andare a fare chissà quali gradazioni. Il colore di cui stiamo parlando che secondo me potrebbe effettivamente diventare una tendenza però l'ho messo a questo posto perché? Perché non piace a tutti. Cioè è un colore che o lo ami o lo odi. Per cui io personalmente se mi segui da tempo se sei nuova benvenuta questo è un colore che adoro. Però non tutti amano vestirsi di questo colore quindi l'ho messo in questa posizione della classifica proprio perché è un colore di tendenza però è un colore che divide un po' o ti piace o non ti piace. Il colore di cui sto parlando il rullo di tamburi è il rosso. Eh sì, è il rosso. Allora abbiamo visto questa sfilata Valentino la scorsa stagione ha fatto questo pink digitale però sappiamo tutti per chi ha studiato la storia del costume sappiamo che il rosso è Valentino per cui è come quando ti siedi in tram e quando ti alzi lasci una sedia vuota e in zero secondi c'è qualcuno che la occupa. Per cui diciamo che Valentino in questa stagione ha rimesso il colore rosso però se vuoi un occhio attento avrà visto che nel pubblico c'erano un sacco di persone vestite con il pink, questo pink digitale. Questo è il mondo della moda che si va a incrociare col mondo del marketing. Quindi Valentino si è ripreso un po' la paternità di questo rosso che aveva quasi accantonato nella scorsa stagione quando aveva fatto questa sfilata pink. E quindi in questa diapositiva ti faccio vedere alcuni brand che hanno messo il rosso ma come vedi sono più o meno delle tonalità che sono quelle nel senso che veramente hai poco spazio chiaro, scuro, leggero, soft no, cioè bene o male quella tonalità lì. Allora a differenza del rosso di come ti dicevo non hai tanto gioco nel fare le tonalità questo è un colore che è presentato in tutte le tonalità dalla quella pastello quella più chiara quella più satura quella più intensa quella più scura si presta molto bene per essere utilizzato come stampa per le stampe soprattutto quelle a fiori quindi ci sono dei colori che rendono molto bene a fare le stampe in particolar modo quelle a fiori e per l'estivo la stampa a fiori sappiamo che gran fiori tutta l'estate piccoli, grandi che siano adesso ci sono molto i fiori piccoli però è un colore molto duttile perché si può utilizzare in tutte le tonalità quindi un'azienda può decidere se il suo pubblico è più per un colore soft o è più per un colore saturo e farti questo colore rimanendo nella tendenza quindi l'ho voluto mettere in terzo posto perché a differenza dell'azzurro che è comparso solo in alcune sfilate i visionari il giallo che è il colore di cui ti sto parlando è il giallo è comparso praticamente in tutte le sfilate cioè ce l'hanno tutti adesso apro questa diapositiva insieme a te lo vedi nelle stampe nella riga nel capospalla cioè il giallo veramente lo stanno mettendo dappertutto in tutte le tonalità e con tutti i tessuti possibili immaginabili quindi ha un è in questa classifica proprio per questo motivo proprio perché è un tipo di colore che è molto presente quindi abbiamo detto al sesto posto l'azzurro poi c'è il rosso poi c'è il giallo questi sono i colori che hanno colpito la mia attenzione perché possono effettivamente funzionare per la prossima estate ora veniamo al podio cosa ci sarà sul podio i primi tre la medaglia di bronzo d'argento ed oro ecco allora quando ti parlavo del beige e ti dicevo che è un colore neutro che ormai veramente è tanto tempo che va e quindi è una è nella fine della sua coda cioè sta finendo sta finendo come colore neutro è chiaro che le aziende visionarie hanno già cominciato a dare l'alternativa di colore neutro già dall'inverno e l'hanno riproposto anche nell'estivo quindi sono le aziende che sono più avanti ma queste aziende come ti dicevo all'inizio del video fanno tutti degli studi perché con gli anni quando farai tante collezioni comincerai a vedere come le cose hanno senso e come le cose si ripetono in modo ciclico quindi questo beige è sostituito da un colore che effettivamente è stato un colore neutro già negli anni passati e ha funzionato bene non tutti l'hanno colta questa cosa molte aziende invece che sono molto avanti l'hanno già colta e quindi anche se tu non lo sai e ti continuano a dire che il beige è una tendenza le aziende di moda che sono più avanti hanno già la sostituzione hanno già la nuova tendenza del nuovo colore e te l'hanno già presentato quindi è un colore neutro cosa vuol dire che è un colore che va bene un po' con tutto quindi lo riesci a gestire bene rende bene su tutti i tipi di tessuti quindi il colore neutro ha anche questa qualità che qualunque tessuto tu fai lo tingi di quel colore rende bene che siano tessuti lucidi che siano tessuti opachi che siano tessuti più pesanti o più leggeri il colore neutro ha la qualità che rende bene su qualunque tessuto quindi le aziende che sono avanti ti hanno già cominciato a dare l'alternativa a questo famoso colore beige di che cosa stiamo parlando? al terzo posto c'è il grigio eh sì al terzo posto c'è il grigio in tutte le sue tonalità quindi parliamo di grigi fino dal grigio medio perché essendo nell'estivo non ti possono mettere un grigio intracite quello te l'hanno messo nell'inverno se vai a vedere le sfilate dell'inverno c'è già il grigio nell'estivo continua questo trend e diventa il nuovo colore neutro che però deve lavorare su delle tonalità che vanno da quella media fino a quella più chiara arriviamo addirittura al grigio perla e lo trovi in tutte molte sfilate non tutte devo dire perché non l'hanno ancora molte aziende non l'hanno ancora presentato come colore neutro però quelle che sono più avanti hanno già messo il grigio al posto del beige come quantità l'hanno già presentato quindi la sostituzione ma tu non lo sai ancora ma le aziende di moda hanno già pensato a cosa darti al posto del beige come colore neutro e te l'hanno già cominciato a presentare un occhio attento si accorta che c'è già la soluzione e l'alternativa al beige e cioè il grigio in tutte le sue tonalità arriviamo al secondo posto ecco il secondo posto per me io l'avevo detto già il mese scorso perché perché questo colore che ho messo al secondo posto io l'avevo visto qualche stagione fa in una sfilata di moda di alta moda quindi il consiglio che ti do è di guardare le sfilate di alta moda perché se conosci la storia della moda la storia del costume normalmente da dove che partono le prime tendenze partono proprio dall'alta moda lì c'è il massimo della sperimentazione anche perché hanno più possibilità di sperimentare per cui ho visto questo abito di quel colore e ho detto qua parte questo colore cioè secondo me ci siamo e infatti è partito con due stagioni due stagioni dopo quindi questo questo brand che l'ha presentato era avanti anni luce perché alle volte ribadisco il timing è importante però si presentano delle cose che funzionano troppo presto il mercato non è pronto e quindi non è che quello che è presente non funziona è semplicemente che il mercato non è pronto infatti questo colore che io ho notato in questa sfilata di alta moda due stagioni fa ho detto vedrai che parte ed è partito adesso quindi credo molto in questo colore perché quando è entrato nel mercato negli anni passati ha funzionato molto bene però come il rosso questo tipo di colore non ha un grande range cioè è chiaro che molte aziende gireranno intorno a questa tonalità ma il suo bello l'effetto di lusso l'effetto di classe l'effetto proprio di lusso perché questo è un colore lusso te lo danno proprio solo due tre tonalità cioè quel punto di colore lì se tu giri troppo intorno ti perdi quel fascino di quel colore di lusso e quindi come il rosso è un colore che ha pochissimo range cioè ha quelle tonalità lì se tu fai altri tipi di tonalità non è la stessa cosa e oltretutto è un colore talmente particolare che non non dà lo stesso effetto sui diversi tessuti per cui tu puoi prendere quel colore lì tingere due tessuti diversi in uno è meraviglioso nell'altro non sa di niente succedono anche queste cose quindi è un tipo di colore estremamente sofisticato che dà molto l'effetto del lusso però va proprio gestito con molta attenzione quindi devi avere dei tessuti di una certa qualità e fare in modo di azzeccare quando vai a tingere il tessuto azzeccare il punto di colore però è un colore meraviglioso che fa proprio lusso ed è estremamente sofisticato sta bene a tutti a tutte bionda brona sta bene a tutti il colore in questione al secondo posto che ho deciso di mettere al secondo posto proprio perché è un colore meraviglioso se azzecchi la tonalità ovviamente devi proprio trovare la tonalità giusta è il colore rullo di tamburi per il secondo posto il colore cioccolato o caffè ho fatto tempo fa una storia su instagram dove te lo andavo anticipare cominciano un po' a parlarne cominciano un po' a parlare di questo cioccolato perché sono quei colori che sono veramente in grado di funzionare ma non tutti se ne accorgono cominciano a parlarne quando già ne parlano tutti però le aziende che sono avanti hanno già cominciato a metterlo lo vedi già nelle loro sfilate parliamo di aziende ad un certo livello perché come ti ripeto è un colore che ci vuole un tessuto di qualità perché non tutti i colori quando tingi un tessuto torrendono nello stesso modo quindi se un tessuto sintetico di bassa qualità anche la resa dei colori quando sono colori particolari è molto difficile quindi questo è un colore per quello che ti dico che è un colore di lusso è un colore sofisticato i tessuti quando sono sintetici bisogna farli di colori molto semplici non si riescono a trovare non si riescono a tingere le tonalità particolari è proprio una cosa tecnica e quindi certi tipi di colori li riescono a fare solo le maison di lusso perché hanno anche i tessuti di qualità su cui questo colore quando il tessuto viene tinto rende benissimo cioccolato e caffè cioccolato e caffè meraviglioso ragazzi veramente apro qua la diapo è meraviglioso come colore rende benissimo sofisticato lusso è una meraviglia però va fatto per bene va trattato con cura è un colore sofisticato che fa lusso però che non tutte le aziende sono in grado di fare proprio perché se un'azienda che produce dei tessuti sintetici di bassa qualità verrà un marrone verrà un marrone scuro ma non viene il colore cioccolato solo con i tessuti di qualità viene fuori quel tipo di tono lì al primo posto la medaglia d'oro per quelle di voi che sono attente avranno visto che ci sono stati dei brand delle griff che hanno dedicato ben metà della sfilata a questo colore metà sfilata non so se rendo l'idea quindi parlando di estivo e avere una sfilata che ha un blocco che è quasi la metà dei capi presentati di quel colore non può che non essere un colore da primo posto e poi l'hanno messo tutti l'hanno proprio messo tutti perché lo considero un colore da mettere al primo posto prima di tutto perché l'hanno messo tutti seconda cosa perché anche questo è un colore un po' particolare nel senso che d'estate è un po' così però negli anni 80 e 90 era un colore da femme fatale un colore un po' rock comincerete a capire di cosa sto parlando quindi è un colore che non poteva che non essere al primo posto proprio perché stiamo parlando di un colore di un certo tipo messo d'estate e soprattutto un colore che alcuni brand hanno messo la metà quasi dei capi che hanno presentato le sfilate di questo colore di cosa stiamo parlando beh il primo posto la medaglia d'oro se l'è preso con la forza ragazzi non c'è niente da fare non potevo non ho fatto un'analisi di tante sfilate e non potevo non metterlo al primo posto eh sì parliamo del nero eh sì ragazzi miei il nero il nero è un colore particolare per l'estate è un colore dark sta nel mondo del dark sta nel mondo del rock sta nel mondo della femme fatale e quindi è un colore molto particolare per la stagione in cui viene proposto però veramente c'è così tanto eh brand di altissimo calibro hanno investito metà della sfilata su questo colore quindi per forza è al primo posto quindi abbiamo parlato di sei colori che hanno colpito la mia attenzione su cui abbiamo fatto insieme questi ragionamenti che sono ragionamenti che devi fare anche tu se vuoi fare la stilista di moda di mestiere per capire quando guardi le sfilate cosa funziona perché chi lo fa di mestiere non guarda le sfilate per passare il tempo e cerca le cose che gli piacciono perché se fai questo mestiere devi fare le cose che piacciono agli altri quindi metti caso che il rosso non ti piace però se funziona bisogna che lo fai quindi la stilista è al servizio della cliente e quindi quando guardi le sfilate devi cercare quelle cose che servono e che possono piacere agli altri poi se piacciono anche a te tanto meglio però prima devi pensare agli altri prima devi pensare alla tua cliente e guardare le sfilate cercando quelle cose che sono delle informazioni se così si può dire che come quelle che ti sto dando in questo video perché ti sto dando delle informazioni su come si ragiona per costruire e progettare la collezione in un'azienda uno dei tanti modi quindi non ti ho parlato solo di tendenze ti ho parlato anche di perché quei colori perché quei colori con un ragionamento dietro le quinte cioè di chi la collezione la progetta ok quindi questi sei colori secondo me vanno tenuti d'occhio vanno tenuti d'occhio poi le tendenze esplodono diciamo sui social in tempi diversi però quando guardi le sfilate con l'occhio lungo con la conoscenza della storia del costume e pensando alla tua cliente tu come stilista sei al servizio della tua cliente non fai le cose che piacciono a te se vuoi fare le cose che piacciono a te non è il mestiere della stilista fare contenta la cliente sempre con buon gusto ovviamente però anche quando guardi le sfilate cerca le cose che funzionano quindi questo video è un video di estremo valore che ho voluto trasmetterti per farti capire cosa c'è dietro lo studio dei colori quando un'azienda decide di farli perché ragazzi non sono solo colori sono capi di abbigliamento che per l'azienda hanno un costo comprare il tessuto farlo tingere far cucire i capi metterlo nei negozi fare pubblicità cioè se quel colore lì non funziona sono tutti capi invenduti capite cosa voglio dire quindi è molto importante prendere il discorso oltre che dei tessuti e delle vestibilità molto sul serio perché c'è dietro un'industria c'è dietro un'azienda ci sono dietro persone che lavorano e aziende che spendono soldi quindi sbagliare un colore è un problema infatti tante volte le aziende fanno una cartella colori dove ti presentano un colore ma ti danno altre 3-4 alternative e poi quella che vende di più continua a essere prodotta magari ci sarà qualche colore che verrà annullato cioè anche se lo hanno presentato nella cartella non lo producono più perché non vende quindi si fanno dei ragionamenti con del buon senso e si cerca di fare le cose nel miglior modo possibile quindi non sono solo colori è una cosa seria anche quella dei colori che Grazie a tutti. Grazie a tutti.